Musica Buonasera, un cordiale saluto a tutti da Honor News, il telegiornale delle marche di UTVRS. Apriamo con una vasta operazione antidroga portata a termine dai carabinieri denominata Giaguaro. Undici complessivamente le persone denunciate, tutte tra i 30 e i 50 anni, due quelle arrestate ed una con obbligo di firma. Il blitz scattato all'alba ha interessato sei comuni tra le province di Fermo, Macerata e Bergamo. Decine i militari impegnati con numerose perquisizioni domiciliari e l'ausilio di unità cinofile. Sequestrati circa 100 grammi di cocaina in casa di uno dei fermati, oltre ad 11 mila euro in contanti. A coordinare il tutto il comandante della compagnia di Fermo, Maggiore Roland Peluso. Stava passeggiando nei pressi del parcheggio del cinema Multiplex a piedi ripa di Macerata quando è stato colto da un malore che gli è risultato fatale. Ha perso la vita così Osvaldo Cavaliere, 80 anni, inutili tutti i tentativi di soccorrere o degli operatori del 118. L'uomo viveva proprio nella frazione del capoluogo. Ieri sera, intorno alle 23, gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Togliatti ad Ancona dove erano stati segnalati tre soggetti incappucciati che stavano scavalcando la recinzione del giardino di una casa con il chiaro intento di compiere un furto. Grazie alla tempestiva chiamata al 113 del proprietario dell'abitazione, a sua volta allertato dal sistema di allarme esterno della casa, gli agenti sono accorsi sul posto ed hanno messo in fuga i ladri. I malviventi sono scappati a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Avevano con ogni probabilità già messo a segno un altro colpo in un appartamento vicino. Cambiamo argomento, i danni agli agricoltori provocati dalla fauna selvatica. Incontro oggi tra i rappresentanti del settore ed il presidente della regione a Maiolati. Sentiamo Manolita Scocco. Oggi in tantissime città italiane la CIA porta in piazza gli imprenditori agricoli per sollecitare il governo nazionale e le regioni ad una adeguata attenzione a quella che è diventata una vera e propria emergenza economica, ambientale e sociale per la sicurezza e la salute di tutti i cittadini, i danni provocati dalla fauna selvatica. Nelle Marche invece l'organizzazione degli agricoltori ha evitato la protesta, cheppure c'era stata nei mesi scorsi, con una manifestazione di popolo proprio davanti al Palazzo della Regione, presentando un documento di proposte di modifica alla legge regionale 157-92. A differenza del resto d'Italia, dove ci sono sit-in e proteste, noi abbiamo scelto di colloquiare, di proporre e non di protestare. Perché? Perché nelle Marche siamo già in grande collaborazione con il governatore, abbiamo già avuto dei buoni risultati, dopo 30 anni finalmente si è ridata dignità agli agricoltori e quindi cerchiamo alleati per arrivare al tavolo Stato-Regioni affinché questa nostra base di partenza che presentiamo in sette punti diventi il cavallo di battaglia per cambiare questa legge 157 da tutela a gestione e qui facciamo aprire il mondo. Destinatari alla Regione Marche, in primis il Presidente della Giunta Ceriscioli, che ha raccolto l'invito partecipando all'incontro organizzato dalla CIA a moglie di Maiolati Spontini. Ma noi riteniamo la proposta utile perché in questi anni, proprio per rispondere al tema di uno squilibrio, con una presenza eccessiva di animali che hanno prodotto danni all'agricoltura e incidenti sulle strade, abbiamo preso provvedimenti, chiamiamoli avanzati, che andavano a leggere i tempi che erano cambiati e le necessità, mancando una legge nazionale che puntualmente andasse a comprire determinati comportamenti. Spingere per una modifica della legislazione che mira a riportare in equilibrio il sistema, offrendo degli strumenti nuovi adatti a quello che è cambiato, è molto utile anche per la Regione. Avere norme che quindi leggono e danno questo tipo di contributo ci permette di essere anche più sereni sull'iniziativa che stiamo portando in sintonia fra caccia e agricoltura per riportare in equilibrio il sistema. Lo stesso documento è stato presentato ai parlamentari marchigiani, candidati per le elezioni europee del prossimo 26 maggio, nella speranza che questi temi vengano presi in considerazione e poi accolti anche in sede europea. Un'auto è andata a fuoco ieri sera, poco prima della mezzanotte a Porto Lecanati, in via Cavour. Panico tra i residenti perché il rogo è stato subito estremamente violento. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata, le altre vetture parcheggiate nei pressi. Sono in corso le indagini ma non ci sarebbero tracce di innesco. Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle Marche torneranno sui banchi il 16 settembre 2019 e le elezioni avranno termine il 6 giugno del 2020. Approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione, formazione e lavoro Loretta Bravi i calendari scolastici del prossimo triennio. Nell'anno scolastico 2020-21 e 2021-22 si rientrerà in classe il 15 settembre e le vacanze estive avranno inizio rispettivamente il 5 giugno 2021 e il 4 giugno 2022. Così verranno garantiti complessivamente ogni anno almeno 204 giorni di scuola. La STEA, la multi-utility che opera nell'ambito dei servizi pubblici, ha presentato ieri recanate alcuni importanti progetti comunitari. Vediamo il servizio di Sara Santacchi. Illustrati tre importanti progetti di ricerca che coinvolgono ASTEA e SPA. Interazione delle reti energetiche verso una maggiore efficienza energetica urbana e un miglior sfruttamento della produzione d'energia rinnovabile, pianificazione ottimale e gestione intelligente delle reti calore e acqua. Sono solo alcuni degli aspetti dei progetti finanziati ad ASTEA di efficientamento energetico. I progetti europei effettivamente sono due. Uno riguarda l'efficientamento energetico dell'impianto di cogenerazione, agganciato a questo anche il controllo e la lettura dei contatori dell'acqua fatta da remoto. Questo per dare maggiori possibilità anche a tutti gli utenti di poter interagire con ASTEA e conoscere i loro consumi. Su questo progetto siamo partner con altre sette nazioni europee e per cui abbiamo ricevuto un finanziamento di circa 500 mila euro. Altri 500 mila euro circa l'abbiamo sempre ricevuti invece per un progetto che riguarda l'efficientamento della rete elettrica, efficientamento dove con il progredire delle energie rinnovabili, anche create sia anche dagli utenti, cerchiamo di far disperdere il meno possibile di questa energia creata nella rete. Per cui una rete gestita in maniera diversa che permette meno dispersione e più utilizzo di queste fonti che non sono costanti durante la giornata fa sì che c'è un maggior ritorno economico per chi ha installato queste fonti e c'è un minor consumo di energia e consumo di fonti non rinnovabili. In questo penultimo sabato di maggio Senigallia torna ad incontrare la storia. Alle 17 all'auditorio in San Rocco si terrà il convegno da Ancona per 800 anni sulle orme di San Francesco in Terra Santa. Intervengono lo storico Ettore Baldetti e l'operatore culturale frate Riccardo Ceriani. Viene proiettato il film muto Frate Sole 1918 di Ugo Falene e Mario Corsi con l'accompagnamento musicale del pianista Mario Mariani e dell'organista padre Armando Pierucci. L'iniziativa si avvale della collaborazione della Scuola di Pace di Senigallia. E restiamo proprio a Senigallia dove si è tenuto un workshop sulle apnee ostruttive del sonno. Vediamo. 5 milioni e 600 mila persone soffre della sindrome dell'apnee ostruttive del sonno. Si tratta di disturbi del sonno legati all'ostruzione delle alte vie respiratorie che provocano sonolenza mattutina, mal di testa, sbalzi di umore, difficoltà di concentrazione, manche aritmie, fibrillazione e diabete. Di una patologia in crescita che riguarda tra il 12 e il 14% della popolazione adulta se ne è discusso nell'ambito del workshop Dormi bene e non dormirci su organizzato nei giorni scorsi a Senigallia dalla Casa di Cura Villa Silvia. Le apnee notturne, che molti non sanno di avere, sono la fonte di tantissime malattie. Io per esempio, che sono cardiologo, so che importanza ha nelle patologie cardiovascolari, ipertensioni, aritmie eccetera. È una cosa di cui si sentiva assolutamente il bisogno e della quale qui in questa zona c'era un'assoluta carenza. L'attenzione sui disturbi del sonno è aumentata da quando l'Italia ha ricepito le linee guida europee, secondo cui chi soffre di apnee notturne non può guidare sino al trattamento o al miglioramento del disturbo. La sospensione della patente ha posto dunque sul tavolo dei medici una questione che da clinica è diventata anche sociale. Ma come diagnosticare questa patologia? Ci sono alcuni sintomi come appunto l'insonnia, può essere l'obesità e uno stato di cefalea mattina che sono un campanello d'allarme e quindi deve rivolgersi appunto a un centro di medicina del sonno, un ambulatorio di pneumologia di primo livello, il quale lo sottopone a questo monitoraggio cardiorespiratorio notturno. A combattere contro l'apnea notturna sono soprattutto gli uomini, in particolare i bambini over 60. Per i casi più severi il trattamento avviene attraverso un dispositivo medico chiamato C-PAP. Il paziente con una mascherina viene collegato alla macchina. La macchina manda una pressione fissa, una pressione continua che all'interno delle vie aeree fa sì che le vie aeree appunto non collabiscano durante le fasi del sonno. Apriamo la ricca pagina sportiva odierna perché sarà comunque un fine settimana denso di appuntamenti di grande rilievo a partire dall'ottava tappa del Giro d'Italia, tra l'altro la più lunga della Corsa Rossa con i suoi 239 chilometri che partirà domani da Tortoreto Lido ed arriverà a Pesaro, primi 140 chilometri pianeggianti poco oltre Senigallia, poi il tracciato diventa ondulato con tre gran premi della montagna, sia pur con dislivelli minimi e finale sul Monte San Bartolo prima della discesa che condurrà al traguardo nel centro cittadino. Secondo la cronotabella la carovana rosa dovrebbe giungere attorno alle 17 nella città di Rossini. Ovviamente c'è grande attesa per un percorso che si adatta ai colpi di mano che potrebbero avvenire in qualsiasi momento. Notevoli le modifiche alla viabilità ordinaria, si prevede un grande afflusso di pubblico. Nel calcio le attenzioni sono puntate sulla finale della Coppa Italia di Serie D in programma domani al Francione di Latina alle 16 tra Matelica e Messina. I bianco-rossi sono partiti questo pomeriggio con tutti i ragazzi convocati da mister Luca Tiozzo che all'immediata vigilia ha sentito per noi Andrea Busiello. Come arriva il Matelica a questa partita? Arriva chiaramente emozionato, chiaramente molto responsabilizzato, i meriti vanno sempre divisi, non può essere merito solo di un mister ma il mister non è niente senza una società, senza un gruppo di giocatori, senza uno staff che mi ha secondato in tutto e aiutato in tutto e soprattutto nel lavoro quotidiano. Noi vorremmo, l'ho detto in settimana, vorremmo chiudere un cerchio. Il mio lavoro è durato dura da due anni e mi piacerebbe a tutte le persone che hanno lavorato con me, ma soprattutto il Presidente che mi ha dato questa grande possibilità di provare a portare a casa un trofeo. La descrivono come un sergente di ferro in maniera positiva, nel senso che con la sua carica grinta è riuscito sempre a trasmetterla alla squadra che poi ha sempre giocato a mio avviso su livelli di grinta elevatissimi, questa è forse un'arma in più di questa squadra? Non credo di essere un sergente di ferro, penso di essere uno che nel mio lavoro vuole tanto da chi lavora per me, vuole il massimo, io cerco di dare il massimo a loro e loro cercano di ricambiarmelo e darmelo a me. Messina che squadra è? Messina è una squadra forte che ha dei problemi societari, non tecnici, perché è una squadra dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche dell'esperienza, ha dei valori importanti. Chiaramente vivono qualcosa di paradossale dal punto di vista societario, perché una piazza è così importante vedo, leggo e ho sentito che non se la passano molto bene, però una finale annulla tutto questo, io voglio ricordare che nel 2006 l'Italia è stata invasa da critiche, da scandali e nel 2006 di fronte a quelle difficoltà ha vinto un mondiale, perciò noi non dovremmo farci distogliere l'attenzione dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dei comportamenti, dal punto di vista della voglia di provare a vincere questa partita, di fronte al fatto che il Messina possa avere qualche problema societario. Vincere questa Coppa sarebbe la ciliegina sulla torta di un gran percorso, direi. Sarebbe una grande emozione, lo dico emozionato, mi piacerebbe. In questi due anni ho sognato ad occhi aperti, ho sognato ad occhi aperti i grandi traguardi, ma non ho vinto, ma penso di avere, l'ho già detto, raccolto tanto. Ho raccolto tanto in termini umani, in termini veramente di rapporti, però mi piacerebbe veramente regalare a tutte le persone che mi stanno accanto, che mi sono stata accanto, regalare una Coppa, un trofeo, qualcosa che comunque ci possa unire ancora di più e ci possa unire questo ricordo per sempre, la vittoria della Coppa Italia. Ed intanto sono state accolte le richieste del patron biancorosso Mauro Canile. Dai sostenitori mattelicesi è stata riservata la gradinata scoperta centrale. Ampi servizi domenica nel corso delle Marche nel pallone dalle 21 sui canali 11 e 111 di TVRS. Molto interessante anche lo spareggio play-off in promozione. Vigor Senigalli ed Atletico Ascoli si giocheranno l'accesso al campionato di eccellenza domenica alle 16.30 allo stadio della Vittoria di Tolentino. Il rosso-blu da diverse settimane sono fermi, mentre la squadra dei mister Filippini ha eliminato prima l'HR Maceratese e poi la Civita Novese. È comunque una sfida apertissima che sfugge ad ogni pronostico, tra un club blasonato che cerca di risalire ed una società relativamente nuova nel panorama direttantistico marchigiano. E non tralasciamo ovviamente il Porto Sant'Elpidio. impegnato nel primo turno dei play-off nazionali di eccellenza. I bianco-azzurri esordiranno domenica in trasferti in Abruzza a Castelnuovo-Vomano alle 15.30 contro la Torrese. Poi il match di ritorno ad attendere la formazione vincente. Al turno successivo e decisivo per l'accesso in Serie D ci sarà la vincente tra il Poggi Bonzi, squadra toscana e l'Agazzanese con pagine emiliana. Vediamo ora quali saranno le previsioni meteo per sabato 18 maggio. Da Moplan Arredamenti a Castelplanio continuano le promozioni e gli sconti. Una visita è d'obbligo per chi lo showroom è completamente rinnovato. Linee, rapporti, materiali, colori, si respira il nuovo, la bellezza, la modernità della casa di oggi, anche su misura del tuo spazio. Varie possibilità di pagamento. Moplan Arredamenti a Castelplanio viene sempre incontro perché da sempre è dalla tua parte. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it Previsioni per sabato 18 maggio. Al centro rovesce temporali a carattere sparso su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, regioni dove non sono da escludere anche locali grandinate, più soleggiato altrove. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 8 gradi e non supereranno i 16 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 17 gradi al nord, fino a 21 al centro e punte di 23 gradi al sud. Ancora calcio, altra convocazione nella nazionale Under 21 per il difensore della fermana Leonardo Malocu che sarà impegnato con la nazionale albanese Under 21 di cui è capitano dal 20 maggio al 12 giugno, periodo nel quale sono programmate tre gare. E nella palla a volo domani alle 19 la Cucina e Lube tenta lo storico bis dopo aver vinto il campionato con la straordinaria partita di Perugia di martedì. I bianco-rossi a Berlina affrontano i russi della Dinamo Kazan nella finale di Champions, ovviamente con il morale a mille e il sostegno di circa 500 tifosi al seguito, un trofeo che manca nella bacheca dei Cucinieri addirittura dal 2002. E con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione e buon fine settimana. Grazie per la cortesa attenzione e buon fine settimana.